Attenzione all'errore di Acqua, la possibilità per Simeone in area di rigore, la conclusione è il gol, il gol di Vertu che porta in vantaggio la Fiorentina al minuto 14 del secondo tempo. Giordano Vertu si fa perdonare dopo il rigore sbagliato, sfrutta l'errore clamoroso di Afriacqua e porta in vantaggio la Fiorentina, niente da fare per Sirigu, non ha perdonato, Vertu lanciato a rete dall'errore in disimpegno di Acqua.